Innamoramento di Orlando, libro primo, canto venticinquesimo, ottava, ventinove. Queste parole, diceva Ranaldo, e taltro che io non cura ricontare, onde l'accordo fo' fatto di saldo, a benché con Marfisa fo' da fare. Perché essa aveva il cuore acceso e caldo, nella battaglia mai volse lasciare, sin che Aquilante non giure e Grifone, tornare per l'altro giorno alla tenzone, mantenere battaglia per un giorno, sin, che sarà nel mare il sole escoso, così dentro la rocca fia il ritorno ciascuno barone afflitto e doloroso, e non aveva un pezzo d'arma intorno che non fosse percosso e sanguinoso, né stavano quei di fuori ad altra Ghisa, Ranaldo e il turco, e la forte Marfisa. Ciascuno attese con solenne cura a sua persona e tra sua guarnisone, cioè a rimettersi in ordine. Quei della rocca tutti avevano paura, fuorché Aquilante e l'ardito Grifone, e ragionavano della guerra dura, come era stato ciascun compagnone, diceva Stolfo, Orlando è stravestito, in tal forma a ognom de voi schernito. Non, rispose Aquilante, tu non sai che il cavaliere è il sir de Monte Albano. Noi lo pregammo con parole assai che non venisse con noi alle mano, ma lui non se lasciò parlare giamai, tanto è feroce e di cor subitano, e così domattina all'altra guerra o noi onesso andrà morto alla terra. Rispose a Stolfo, et'è male incontrato che ad ogni modo rimarrai perdente, perché io mi troverò dall'altro lato e vado da Ranaldo incontenente. Quando nel campo me vedrite armato, son ben che voriti per niente, ne esserà alcun di voi tanto sicuro che esca tre passi fuor longe dal muro. Rise Aquilante che lo cognoscìa, e tal duca rispose alla buon'ora da poi che esser convene, e così sia. A Stolfo non fiel già lunga dimora che della rocca fuora se ne uscia. Ne oscurato era in tutto il giorno ancora quando i cugini insieme si trovarono, e con gran festa insieme si abbracciarono. Lasciamo questi insieme al pavaglione, che se posarono insina la mattina, e ritorniamo al fio de Milone. Qual con gran volontà sempre cammina, tanto che ad Albracà John se al girone, e già al sole alla sera se di china. Quando quel cavalierco tanto forte, John se alla rocca dentro alle porte, già non par che venga dalla danza, l'arme ha spezzato, ed è senza cimiero, arza e la sopravveste non ha la lanza, e non ha scudo l'ardito guerriero, ma pur mostrava ancora grande arroganza. Nel senso di ardimento, di spirito battagliero. Tanto superbo aveva lo spetto fiero, e qualunque il mirasse in subaiardo direbbe questo è il fior d'ogni gagliardo. Come fogionto dentro all'altra rocca, Angelica la bella incontrava. Lui salta dell'arcion che nulla tocca, la dama di sua mano il disarmava, e nel trargli dell'elmo il bacia in bocca. Non divandati, come Orlando stava, che quando presso si sentì quel viso, credette esser di certo in paradiso. Avea la dama un bagno apparecchiato, troppo gentile e di suave odore, e di sua mano il conte ebbe spogliato, baciandol spesse fiate con amore, poi lungiva ad un olio delicato che caccia della carne ogni livore. E quando la persona è afflitta e stanca, per quel ritorna vigorosa e franca. Stavasi il conte quieto e vergognoso, mentre la dama intorno il maneggiava, e benché fosse di questo gioioso, crescere in alcun loco non mostrava. Intra nel fine in quel bagno odoroso, e se dal collo in giù tutto la lavava, e poi che asciutto fu con grandiletto, per poco spazio se colca nel letto. Allora, qua il boiardo non va da finezze, quando la battuta è pronta, gli fiorisce spontanea. Nel rifacimento del berni, questo accenno scompare, e lontano dal farsi tutto lavare dal collo in giù, Orlando si lava e si asciuga da sé. Naturalmente arguto il riferimento al boccaccio del De Camerone 2-7, San Cresci in Valcava. E dopo questo la donzella Elmena entra una ricca zambra e tappartata. Dopo posarno con piacere a cena, che vi era ogni vivanda delicata, nel fin la dama, con faccia serena, standosi al collo a quel conte abbracciata, lo prega e lo scongiura con bel dire che d'una cosa la voglia servire. D'una sol cosa il mio conte diceva, fammi promesse e non me la negare, se vuoi che più sia tua, che io non son mia, che a tal servigio mi puoi comparare, né creder che ha già tanta scortesia che da te voglia quel che non puoi fare, ma solcheggio da te, cioè ti chiedo, che per mio amore mostri ad un giorno tutto il tuo valore, e che non abbia al mondo alcun riguardo, ma che io veda di te l'ultima prova, perché io starò a vedere se sei cagliardo, né creder che da dosso occhio te muova, sinché a terra non vada ogni stendardo della gente che il campo si ritrova, e ben so che farei ciò se tu vuoi, perché io conosco quel che vali, e poi. Una dama, sta parlando di Marfisa naturalmente, feroce, arrabbiata, qual venne col mio padre in mia difesa, senza cagione alcuna ribellata di maltalento e di furore accesa, come vedi, ma qui vi assediate, e se tu non mi aiuti, io serò presta dalla crudel Marfisa, che tanto odio mi porta, che con tormento e strazio serò morta. Così disse Angelica. E lacrimando il viso, al cavaliere tutto bagnava, appena si ritenne il conte Orlando che allora, allora, tutto si armava. Cioè, a stento, Orlando si trattenne dall'armarsi subito, e risponde a niente, fulminando gli occhi abragiati, dintorno voltava, poiché la furia fu passata un poco, il volto a lei rivolse e pare a fuoco. Nei già puote la dama sofferire di riguardare alla terribile faccia, dissegli il conte d'ama, a te servire, mi reputo dal cielo a tanta graccia e quella dama che mi aveste a dire fia da me morta o presa o messa a caccia e quando fosse il mondo tutto quanto con seco armato, ancor de ciò me vanto. Rimase assai contenta la donzella, veggendo il proferir di quel barone che ben sapea quel che lui vale in sella, frutti e confetti di molta ragione furono portati a quella zambra bella, gionsero in quell'aquilante e grifone e ciascun con Orlando fu avracciato, Angelica di poi tolse combiato, cioè si allontanò, prese combiato. Ella se parte zoiosa e festante per la promessa di quel cavaliero, per la promessa di Orlando, che di Marfisa più non ha pensiero come partita fu, disse aquilante al conto Orlando, il ti farà mestiero domani essere gagliardo sopra il piano perché avrai contra il sir de Monte Albano. Egli è venuto in un sola cagione ma fuori dell'intelletto al tutto pare che tutti quanti qua dentro al girone ci ha preso con vergogna a disfidare, io lo pregai, ta ancora grifone, ma lui non si lasciò già mai parlare né dir se li può mai ragion che vaglia, onde c'è forza far seco, battaglia. sai certo che il si adesso disse Orlando e che per lui non abbia altro avvisato, disse aquilante a Dio mi raccomando, stato son seco a fronte gli ho parlato e combattei con lui brando per brando e tu mi stimi tanto smemorato e si fuor di intellette e di ragione che io non cognosca Ranaldo d'amore. Grifone quel medesimo dicia che senza dubbio alcun l'ha conosciuto e quando il conte tal cosa intendia tutto cambiò se nel sembiante arguto e prese nel pensier gran zelosia che qua non fusser Ranaldo venuto sor per amor de angelica la bella onde grandoglia dentro il cor martella. Presto dette combiate ai due germani e nella zambra si chiuse soletto e giva intorno strisciando le mani ardendo di gran sdegno e di dispette con lamenti e con sospiri insani senza spogliarsi e si gettò sul letto ove con pianti e dolente parole in cotal forma si lamenta e dole ai vita umana triste e dolorosa nella qual mai di letto alcun non dura sì come alla giornata luminosa vi è indietro in continente notte oscura così non fu giammai cosa gioiosa che non fosse meschiata di sventura ma ogni diletta è breve e via trapassa la doglia sempre dura e mai non lassa e questo si può dire per me tapino qual con tanto piacere tanto onore accolto fui da quel viso divino che non credetti aver più mai dolore ma poi fu ciò per farmi più meschino che la pena mia fosse maggiore che perderla acquistata e maggior doglia che il non acquistar quel de che s'ha voglia io son venuto nella fin del mondo per l'amor di una dama conquistare e tebbi iersira un giorno si io condo quanto m'avria saputo immaginare non vol fortuna che io giunga al secondo perché Ranallo mi viene a disturbare ben conosce Dio che egli ha gran torto ma certo l'un de' noi rimarrà morto sempre a mia posta l'agio favorito nella gran corte dello imperatore Carlo Mano e mille volte che è stato bandito l'ho ritornato in grazia al mio signore lui